Amiche ed amici di Torino Channel, ben trovati per l'ottavo giorno di ritiro qui a Pinzolo del Toro di Vanoli. La squadra Granata ha cominciato la giornata con una parte aerobica e atletica sul campo secondario, seguita poi da un momento di refrigerio per alcuni giocatori Granata nel fiume Sarca di Val Genova, adiacente al campo. La seconda parte della giornata invece è stata composta in due parti anch'essa. La prima parte una sezione atletica con gestione del pallone sul campo secondario, invece la seconda parte è stata tattica, seguita attentamente dal tecnico Vanoli, culminata con una partita a metà campo. Vi lasciamo come di consueto con le immagini dell'alimento pomeridiano. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!